Decreto Rave Party, il Covid che comincia nuovamente a preoccupare per le notizie che arrivano dalla Cina, ma anche le questioni che riguardano come sempre la manovra del governo, i temi nazionali che tra poco andremo a vedere come li trattano i quotidiani oggi, ne dico le quotidiane nazionali. Poi per quanto riguarda le notizie a livello regionale, si parla ancora di sanità, dell'arrivo dei medici cubani, ma anche dei nuovi sviluppi che ci sono sulle risorse idriche in Calabria e tante altre notizie che troviamo sui quotidiani. Allora come dicevo, andando a vedere, iniziando con le prime pagine dei quotidiani nazionali, il nostro nuovo appuntamento con i giornali in TV, leggiamo infatti dal Corriere della Sera, test per chi arriva dalla Cina, quindi controlli a malpensa, contagiato 1 su 2, l'ambasciata di Pechino, le misure siano appropriate, tampone obbligatorio negli aeroporti per chi arriva dalla Cina. Schillaci, che è il ministro della salute, chi è positivo andrà in quarantena, questo appunto leggiamo dalle pagine del Corriere della Sera, che in prima pagina pubblica anche una foto di Papa Francesco e il suo predecessore Ratzinger, l'appello del Papa, pregate, Benedetto Stammale, Benedetto appunto, Benedetto XVI, Papa Ratzinger, che ricordiamo tra le altre cose nel 2011, è stato anche alla Mezzia. Sulla prima di Repubblica il virus piomba sul governo Novax, poi Pechino apre le frontiere e l'ondata Covid che ha colpito il Paese, appunto, la Cina si allarga al resto del mondo, Palazzo Chigi disarmato dopo aver cancellato le misure di prevenzione, Unione Europea e Stati Uniti si mobilita, il ministro Schillaci dispone il tampone obbligatorio per i passeggeri dei voli in arrivo dalla Cina, il PD accusa sta ritardando i nuovi vaccini. Poi blitz del terzo polo sulla legge spazzacorrotti, c'è l'intesa con la destra alla Camera, questo era su Repubblica, sulla stampa leggiamo Covid, la sindrome cinese, quindi ancora una volta metà degli sbarcati da Pechino è positiva. Schillaci, test obbligatori negli aeroporti, stretta anche negli Stati Uniti, quindi ricordiamo tra le altre cose che proprio il Covid, il coronavirus, appunto arrivò per le prime volte proprio dalla Cina, quindi sicuramente c'è tanta tanta preoccupazione che appunto la Cina ci faccia nuovamente ripiombare negli incubi del 2020, ma anche nel 2021. Anche sul Libero leggiamo Allarme Covid da Pechino, ci risiamo con i cinesi infetti, questo era sul Libero, poi il giornale Riecco il Covid e i suoi tifosi, un film già visto, scrive il giornale, il governo impone il test per chi arriva dalla Cina, positivo uno su due, chi arriva dalla Cina su due persone uno è sicuramente positivo. Si chiama variante Gifron, la variante Gifron che spaventa, ci risiamo col derby tra chiusuristi e Novax. Questo era sul giornale, poi il fatto quotidiano, Covid dalla Cina, paura come tre anni fa, cosa rischiamo? 250 milioni di contagiati, uno su due negli aeroporti. Schillaci, tamponi, il modello Pechino è una nuova catastrofe, scarsa immunità e restrizioni revocate per le contestazioni. Il ministro corre ai ripari, test antigenici a ogni cinese che appunto arriva. Ancora sulla verità, torna la paura Covid, controlli sui cinesi, questo era sulla verità, l'agonia di Papa Benedetto, dicevamo appunto dei problemi di salute di Papa Benedetto XVI, anche sul messaggero Covid, torna l'allarme cinese e poi su domani. Domani il ministro Crosetto ha un'idea di stato contraria alla Costituzione, titola domani. Solo 24 ore, energia tutti gli aiuti della manovra, poi il riformista, sì del governo al decreto anti-ONG, ma il testo è fuori legge. Poi il mattino, anche qui Covid, torna l'incubo cinese, questo era su il mattino, il resto del Carlino, Covid, tampone obbligatorio a chi arriva dalla Cina. Poi il manifesto in fondo a destra, scrive il manifesto, quindi si parla del terzo governo Netanyahu, il più a destra della storia di Israele, quindi ministri razzisti come Ben Giver, Smoltric, guerra alla comunità LGBT, attacco all'indipendenza della magistratura. Nel mirino non ci sono solo i palestinesi, vertici militari ed ex diplomatici preoccupati, il mondo ci guarda. Questo era appunto sul manifesto, stretta contro le ONG, arriva il decreto, sempre sulla prima pagina del manifesto. Ora andiamo a il dubbio, archiviato Buonafede, torna la prescrizione, terzo polo maggioranza, patto sul ripristino della norma che evita i processi infiniti. Andiamo ora sui quotidiani nazionali sportivi, su Gazzetta dello Sport, McAllister, voglio la Juve. Protagonista in Qatar, l'argentino manda messaggi ai bianconeri. Se McKennie va via può arrivare subito da Allegri, McAllister. Questo era su Gazzetta dello Sport, il primo quotidiano sportivo che stiamo leggendo stamattina, appunto nel corso del nostro consueto appuntamento con i giornali in tv. Gruppo vacanze Juventus, scrive il Correa dello Sport, l'Europa va in campo, l'Italia fa festa. Ritardi e selfie sulla neve, l'ira dei tifosi. Di Maria e Paredes in Italia solo dopo il Capodanno. Pogba e Quadrato si curano in montagna. Il 4 gennaio contro la Cremonese saranno tutti indisponibili. Ecco perché c'è il titolo Gruppo Vacanze Juventus. Questo era sul quotidiano Corriere dello Sport, come sempre nell'ambito del nostro appuntamento con i giornali in tv, anche su tutto sport. E adesso giochiamo noi, Allegri spazzavia, le ansie extrasportive. Questo era sul tutto sport. Leggiamo anche Berrettine Sinner di nuovo nella top 10. Parliamo di tennis, l'intervista a Bertolucci che appunto con l'Italia vinse la Coppa Davis nel 1976. L'edizione cartacea del quotidiano del sud, dorso nazionale, l'altra voce dell'Italia, nomine, scatti la caccia ai talenti. Faccia a scuola il modello vincente, scrive il quotidiano del sud, una grande azienda quotata deve avere i numeri, scrive ancora il quotidiano del sud. Poi PNRR raggiunti i 55 obiettivi in scadenza a fine anno, l'annuncio del ministro Fitto, poi spread in rialzo, gas in ribasso, perché non c'è da allarmarsi. Poi ancora, Seconte lancia un'opa sul partito democratico, anniversario movimento sociale italiano, polemiche per addetti ai livori. Antonio Romano e i calendari dell'anima, leggiamo ancora il quotidiano del sud, poi Exilva, si al prestito ponte da 680 milioni, in Vitalia al 60% con una nuova governance. Bombardieri, l'intervista a Bombardieri che è il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il 41 bis non si deve toccare, dice il procuratore Bombardieri. Anche sul quotidiano del sud, edizione Calabria, le notizie di respiro nazionale, decreto Revesi della Camera e la fiducia, ma non mancano le polemiche sul voto. Paventato il ricorso alla ghigliottina per accelerare i tempi, forte protesta delle opposizioni. E poi, come dicevamo, l'arrivo dei medici cubani, abbiamo vinto ogni intoppo per avervi qui, ha detto il presidente della Regione Occhiuto, che ha accolto il primo contingente di 50 specialisti cubani, dal 2 gennaio frequenteranno un corso di italiano, poi saranno impiegati negli ospedali di Reggio Calabria. Acqua si cambia, ecco come Sorical sostituirà i comuni, incontro con i sindaci, con qualche polemica. Poi scuola, Princi dice salvi i fondi mai spesi dall'aggiunta Oliverio. Catanzaro polemiche sulla facoltà di medicina, il governatore Occhiuto dice stop alle rendite di posizione. Poi economia, Reggio Calabria, lo shopping di Natale mostra segni di vitalità. Sentenza petrolmafia, Vibo, inequivocabili gli interessi dei Mancuso. Poi Crotone, ordine del giorno della Lega, impegna il governo ai benefici degli ex Pertusola. Poi la Film Commission Calabria finanzia 50 nuovi film. Poi lotta al crimine, supremazia delle endrine calabresi in Toscana. Poi scienza, un nuovo coleottero scoperto nella Locride. A Roccella Ionica, il comune di Roccella Ionica appunto conferisce la cittadinanza onoraria a Raul Bova, l'attore Raul Bova. All'interno delle pagine del quotidiano del Sud, inflazione il 2022 è stato l'anno del suo ritorno. Poi in borsa, 365 giorni di piazza affari. Le manovre del 2022 hanno caratterizzato il settore bancario. E anche qui, dicevamo, i tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina. A Malpensa il dato è di un passeggero positivo su due. Quindi il Ministro Schilaci parla di misura necessaria. Poi un focus sui cambiamenti climatici, il piano di adattamento per l'Italia. In arrivo il testo del Ministero dell'Ambiente. Il conflitto ancora tra Russia e Ucraina, regione di Kherson, tra allarmi, sirene e pioggia di bombe. Mosca, no pace, senza ok, annessioni. Poi la pianista di Kiev con Putin salta il concerto alla Fenice. Valentina Litista, talentosa artista pro-Russia. Appunto c'era un concerto a Venezia e questo concerto è saltato. Poi la nuova vita di Sorical in tre tappe. La Calabria ricca d'acqua ma assetata, appunto, il paradosso della Calabria. I medici cubani inizieranno subito all'unica, all'uncorso intensivo di italiano. Saranno, i primi 50 saranno destinati agli ospedali del Regino. Occhiuto parla della facoltà di medicina a Cosenza. Per la Calabria è una buona cosa, dice Occhiuto. Poche sedi in rapporto agli abitanti, appunto, dichiara il Presidente Occhiuto. Sempre in Calabria parliamo di scuola. La vicepresidente della Regione, Giussi Princi, dice che sono stati salvati i soldi mai spesi da Oliverio. Abbiamo recuperato i vecchi 30 milioni, Princi sui servizi educativi e sulle borse di studio universitarie. Dice polemiche sterile. Calabria Fin Commission finanziati i progetti per 7 milioni di Euro. Acri, PD, il Sindaco Capalbo sostiene De Micheli. Tripodi, ok sulle deleghe, dice la sottosegretaria Tripodi. A proposito di Covid in Calabria, oltre mille nuovi casi in più, i dati regionali sulla pandemia. Tripletta Superenalotto, centrati 5 a Reggio Calabria, Crotone e Cosenza. La fortuna, appunto, a Superenalotto, bacia la Calabria. Alta velocità Salerno-Reggio Calabria con il PNRR, tra le principali gale lanciate da Rete Ferroviaria Italiana. Giustizia, disfunzione nei tribunali minorili della Calabria e poi come leggevamo, la lotta al crimine, supremazia delle Endrine in Toscana secondo i dati del rapporto sulle proiezioni criminali nella regione centrale, appunto, qual è la Toscana. Stop alle rendite di posizione, dice occhiuto sulla facoltà di Ingegneria all'Università Magna Grecia di Catanzaro. E poi il Cinema Orso è stato svenduto a Catanzaro perché il Comune non è intervenuto. Soverato, servizio straordinario di sicurezza, diversi gli interventi che hanno portato a denunce, arresti e misure di prevenzione, quindi questo è il bilancio appunto dei carabinieri su tutte le attività che sono state fatte nel Soveratese. Alla mezza c'è lo screening sui disturbi dell'apprendimento, i referenti appunto si sono riuniti per un incontro formativo sullo screening, fari sui disturbi dell'apprendimento, urge un monitoraggio dei dati relativi ai comportamenti atipici degli alunni che appunto soffrono di questi disturbi. A Falerna sulle orme di San Francesco di Paola c'è un'iniziativa, sarà benedetto il nuovo bastone del santo. E poi il direttore della Caritas di Ocesana, Don Fabio Stanizzo, ha ricevuto un riconoscimento nel corso del galà della gratitudine che si è svolto al Teatro Grandinetti. Tante forme di povertà sono cresciute in città, la Caritas apre a chiunque bussa, quindi questo ha detto Don Fabio Stanizzo, premiato dal procuratore della Repubblica della Mezzia, Salvatore Curcio. L'iniziativa di solidarietà, i pacchi di Natale, sono state raccolte 625 scatole di Natale, i pacchi sono stati donati fino al 20 dicembre scorso ai più bisognosi. C'è crisi al comune di Curinga dove appunto si è dimesso il vice sindaco Denisi che ha annunciato le sue dimissioni nel corso del Consiglio Comunale. Marta Monteleone di Forza Italia, una tragedia amministrativa che si va concludendo, dice Marta Monteleone. Il calcio contro il male, il libro Calcioterapia di Maurizio Antonio Perri che era l'allenatore della squadra ASD Biancoveldi Raffaele che attualmente gioca in prima categoria quando era allenata da Maurizio Perri giocava in seconda categoria. Maurizio Perri scomparso il 16 maggio scorso, poche ore dopo la sua squadra quando aveva ottenuto il salto di categoria. C'è questo libro Calcioterapia che è scritto da Maurizio Perri che è stato presentato alla Mezzia. Poi ancora un altro libro, una raccolta di saggi brevi, il libro del critico d'arte Teodolinda Cortellaro, esordio di una nuova collana. Poi teatro, la rassegna di la rassegna di scenari visibili, la diciannovesima edizione della rassegna ricrie, riparte con il colloquio al Tip Teatro, una serie di interviste alle donne, parliamo di teatro alla mezza. Poi da gennaio a Maida la scherma entrerà nelle scuole, sarà portato avanti questo progetto della scherma nelle scuole dal circolo scherma a Lamettino. Andiamo a Crotone, ordine del giorno impegna il governo sui benefici degli ex della pertusola di Crotone. Poi c'è questa iniziativa sempre a Crotone, si è insediato il baby consiglio comunale, Lucchetta sindaco. Sono stati coinvolti mille alunni in questa iniziativa, cioè del consiglio comunale degli studenti, il cosiddetto baby consiglio. Poi a Cittanova sono stati traditi gli elettori, dice Francesco D'Agostino, consigliere comunale di Cittanova, che ha lasciato la maggioranza. Poi l'intervista inviate dopo monitoraggi investigativi, il prefetto sulle commissioni d'accesso nei comuni di Acquare e Capistrano dice che sono state inviate dopo queste commissioni d'accesso, dopo alcuni monitoraggi investigativi. Poi il comune di Vimbo si punta al benessere giovanile, approvato dall'aggiunta il progetto Innovation Bag. Poi fondi non inseriti nel bilancio, parliamo sempre di Vimbo. Il TAR aveva condannato Palazzo Razza per non aver approvato il progetto di vita, Palazzo Razza appunto di Vimbo, la denuncia della minoranza sulla vicenda del bambino autistico. Comune di Vimbo, Movimento 5 Stelle, troppe commissioni e pochi risultati con evidente sperpero di soldi pubblici. Inchiesta a petrolmafie inequivocabili gli interessi dei Mancuso, la circostanza riportata nelle motivazioni della sentenza, una rete europea del commercio del carburante e le figure del boss Luigi e dei boss Luigi Mancuso. Poi Pizzo, presepe vivente, un boom di presenze organizzato dalla parrocchia del Duomo di Pizzo. Poi ancora tropea, giornata di educazione ambientale, lega ambiente e gli studenti ripoliscono la città dai mozzicone di sigarette. Poi a Filadelfia, per esempio in provincia di Vimbo, rifiuti, Filadelfia tra i comuni virtuosi, pubblicati i dati, alta percentuale raggiunta nella raccolta differenziata, non pervenuti i risultati di Polia, Francavilla, Angitola, cassonetti eliminati. Poi a Serra San Bruno è stato assolto un uomo di 52 anni che era accusato di un'occupazione abusiva di un immobile. E poi dicevamo Rocella Ionica sceglie Bova, suo cittadino onorario, l'attore ha accettato con grande gioia e iniziativa che è appunto originario di queste parti, delle parti di Rocella Ionica. Lui tra le altre cose l'attore quasi ogni estate torna appunto per le vacanze a Rocella Ionica. Scienza e Natura è stato scoperto nella Locride un nuovo coleottero, quindi eccezionale scoperta in Aspromonte dove è stata trovata una nuova specie di coleottero della famiglia Scarabeida, si chiama Oplia Aspromontana, quindi che significa appunto Aspromonte, il nome in dialetto calabrese del massiccio montoso dove appunto è presente questa specie. Tutti gli esemplari della nuova specie sono stati trovati mentre si nutivano, si accoppiavano su piante di biancospino in fiore, quindi questa nuova specie di coleottero è stata scoperta nella Locride. E poi come al solito noi concludiamo il nostro appuntamento anche con le pagine dello sport, ma prima appunto delle pagine dello sport andiamo a scorrere le pagine di qualche sito online, in questo andiamo al lamettino.it, occhiuto incontro ai sindaci della Carabbia, dice Lamettino, sorica il gestore unico, servirà per superare i problemi. Poi sempre sui Lamettino, incidente sulla A2 nel Cosentino, sette ferite, una è grave, Covid, il Ministro della Salute Schillaccio ordina tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina. Poi Lamessia Multiservizi, ritorna potabile l'acqua in località Oppolese, Calabria e Matacca, sempre sui Lamettino, poi sui Lamettino intitolazione della Camera Penale di Lamessia all'Avvocato Felice Manfredi. Poi Lamessia, l'albero della solidarietà della scuola secondaria di primo grado, Ardito Don Bosco, sempre a Lamessia è scomparso il pittore Lamettino, Giovanni Battista Molinaro, il cordoglio degli amici. Questo era sempre sui Lamettino.it, Comune di Maida ottiene un finanziamento per l'ammodernamento e il potenziamento del depuratore comunale. Poi a Falerna via alle selezioni per il servizio civile promosso dal Comune di Falerna. Questo era appunto anche sulle pagine del Lamettino, ora sullo sport, dicevamo per concludere, sul Quotidiano del Sud, l'anno di Messi, Ancelotti e Pioli. Hanno vinto rispettivamente il Mondiale, la Champions e lo Scudetto. La Roma ha vinto la Conference League nel 2022, l'Inter ha portato a casa Coppitale e Supercoppa, per la Juventus è stato un annus orribilis. Kuluseschi dice alla Tottenham sono rinato. Poi il presidente del CONI Malagò dice è stato un 2022 da podio. Poi Tennis al via la United Cup, l'Italia gioca contro il Brasile. Quindi vediamo la foto di Matteo Berrettini. Napoli sogna con Cvardona verso la ripresa del torneo. Il Giorgiano, appunto, Caravceila scoperto da Giuntoli, scalda i partenopei. Poi andiamo alle squadre calabrese. Serie B, Cosenza, il mercato, unica strada. Non sono in discussione né DS né allenatore, a loro servono investimenti adeguati. Nel girone di ritorno potrebbe essere necessario dai 23 ai 28 punti per la salvezza, mentre attualmente il Cosenza ha 17 punti. Regina, adesso l'interesse si è esposto sul carciomercato, possibili dei nuovi movimenti. Un mese decisivo in Serie C per il Catanzaro alla ripresa del torneo, gare più abbordabili rispetto alla vicecapolista. Intanto c'è un interesse del Monopoli per quanto riguarda Mulè. Poi Crotone alla ricerca di un attaccante. Non decolla la pista che porta all'Escano. Resta solo un sogno, il ritorno di Simi. Intanto Bernadotte è stato richiesto dal Taranto. Vitale piace all'Avellino. La Serie C che tornerà in campo sabato 7 gennaio. Il Catanzaro affronterà al Ceravolo il Taranto, mentre il Crotone andrà in trasferta a Monopoli. Calcio a 5 a Reggio Calabria. Le finali di Coppa Italia maschile e femminile. Questo era sempre sulle pagine dello sport del Quotidiano del Sud. A proposito di sport parliamo di basket, in questo caso del Basketball La Menzia che sta attraversando un periodo di crisi e per questo periodo di crisi a farne le spese ora è stato il coach De Martino. Il Basketball La Menzia che gioca nella Serie C Gold ha annunciato la decisione di sollevare dall'incarico Umberto De Martino, dall'incarico di allenatore della formazione di Serie C Gold, alla luce e scrive un comunicato dei deficitari risultati ottenuti, augurandogli le migliori fortune professionali. La società Giallo Bu ha anche reso noto che gli allenamenti della prima squadra riprenderanno sotto la guida ad interim di coach Alfredo Lazzarotti e del preparatore atletico Valerio Tolomeo. Quindi è stato esonerato dunque il coach della Basketball La Menzia che appunto milita nel campionato di Serie C Gold. Questa era una notizia che abbiamo letto sempre dalle pagine dello sport del quotidiano del sud, pagine dello sport che abbiamo comunque anche come dire, abbiamo anche visto sui quotidiani nazionali, in particolare le prime pagine. Poi c'è questa notizia che riguarda la Virtus Reggio Calabria, è stata 27 volte sul podio, parliamo di ginnastica. Le atlete della società di Loprevite dominano le finali nazionali, a Rimini performance individuale di squadra, 17 titoli italiani, 8 argenzi e 2 bronzi. Poi tennis scalese vince a Bari il torneo di Natale, e poi ancora festa dello sport, luci e ombre a Caolonia, sempre in provincia di Reggio Calabria. Questo era appunto sempre sullo sport del quotidiano del sud, con cui siamo arrivati anche oggi all'appuntamento conclusivo con i giornali TV, come sempre con voi ogni giorno, sui canali 94 e 98 del DGDDRS, ma vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, STV e sul nostro canale YouTube. A proposito di sport, vi ricordo l'appuntamento con A Tutto Calcio, che riprenderà per il nuovo anno lunedì 9 gennaio, a partire come sempre dalle 20.45, poi nelle consuete repliche del martedì alle 14.30 e del mercoledì alle 22.30. Da Pasqualino Rettura come sempre è tutto, grazie per averci seguito fin qui, ci rivediamo naturalmente per le prossime edizioni. Grazie a tutti!